Quanto è importante la scelta del nome del tuo canale YouTube affinché abbia successo? Scopriamolo nel video di oggi! Ciao sono Paolo, in questo video scopriamo insieme quanto vada ad impattare la scelta del canale YouTube affinché possa avere successo. Questa è una domanda che mi è stata posta alcune volte perciò ho deciso di farci un video per fare un po' di chiarezza e condividere i miei pensieri. Innanzitutto ci sono alcune permesse da fare, ovviamente se hai un'attività, se hai un brand già avviato è ovvio che abbia senso dare il nome al canale YouTube del tuo brand, questo per vari motivi tra cui anche il fatto che quando le persone cercano su YouTube il nome del tuo brand possono trovarlo facilmente. Quindi se sei un professionista, il titolare o comunque lavori in un'azienda è normale che abbia senso che tu dia il nome del tuo brand al canale YouTube. Detto questo c'è un altro approccio che è stato seguito in passato da varie persone e quindi mi è stato richiesto sotto i commenti via mail appunto se sia valido o meno. Cioè il fatto di utilizzare delle keyword all'interno del nome appunto del canale. Ad esempio un personal trainer che si occupa di allenamento funzionale potrebbe pensare di dare il nome al proprio canale YouTube allenamento funzionale. In questo modo quando le persone vanno su YouTube e digitano allenamento funzionale il suo canale potrebbe, non è detto, ma potrebbe saltare fuori appunto in prima pagina. Ti ricordo ovviamente che YouTube è anche un motore di ricerca, il secondo motore di ricerca a livello mondiale. Per questo queste persone decidono di provare questa strada. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo approccio? I vantaggi innanzitutto sono appunto che se la keyword è molto ricercata e magari non c'è troppa competizione, il canale, quindi non semplicemente magari singoli video, ma anche proprio il canale potrebbe posizionarsi. Quindi questo potrebbe darti una spinta, un vantaggio dal punto di vista del posizionamento organico. Gli svantaggi, quindi l'altro lato della medaglia, è che dare un nome così generico a un canale YouTube non credo sia un'ottima idea, questo perché sarà molto difficile che le persone riescano a ricollegare quel nome al tuo volto nel lungo periodo, perché ci sono tanti personal trend che fanno appunto, predicano questa disciplina diciamo così, insegnano questa disciplina e lo utilizzano con i propri clienti, quindi riuscire a fare alle persone il collegamento mentale, in questo esempio allenamento funzionale con il tuo canale YouTube è un lavoro molto molto duro e richiede molto sforzo e tanto tempo, quindi non è una cosa assolutamente facile. Una strada sicuramente migliore potrebbe essere quella di provare a inserire la parola chiave nel nome del canale e aggiungere magari il tuo nome e cognome, ho visto fare varie volte e questo credo abbia più senso, quindi allenamento funzionale con Mario Rossi, in questo caso diciamo che la situazione è un po' borderline però sicuramente ha più senso che dare un nome generico di una parola chiave a un canale, detto questo tieni presente che saranno sicuramente i contenuti, quindi i video a posizionarsi sicuramente meglio rispetto che a un canale, questo ovviamente a meno che il canale non abbia un nome con una keyword veramente poco competitiva, ma se parliamo nell'esempio sempre stesso del fitness, allenamento funzionale, ci sono tanti video che sono stati creati a riguardo sicuramente, quindi il fatto di dare il nome al canale non è detto che ti porti in prima pagina, anzi è molto più probabile che ci saranno dei video che si andranno a posizionare meglio, quindi in realtà il vantaggio di questa scelta potrebbe cadere nel momento in cui ci sono dei contenuti già creati intorno a quelle parole chiave che sicuramente l'algoritmo propone di più. Ci sono tanti canali che hanno dei nomi che sembrano impronunciabili, in realtà adesso sono diventati quasi dei brand perché questi canali hanno aggiunto successo enorme, ma agli inizi erano praticamente sconosciuti, erano impronunciabili, quindi questi canali con questi nomi impronunciabili nel corso degli anni, facendo video fatti bene sia dal punto di vista tecnico che dei contenuti, sono riusciti a crearsi un seguito tale che ormai le persone riescono a ricordarsi il nome di quel canale, ma agli inizi era veramente dura, quindi questo per dirti cosa? Per dirti che non devi ossessionarti troppo riguardo la scelta del nome del canale, è ovvio che se stai partendo è una cosa a cui devi pensare e anche perché non sarà facile cambiarlo in futuro, specialmente cambiare magari l'URL, quindi l'indirizzo del tuo canale, però non è una cosa su cui ti devi ossessionare troppo, ci sono cose molto più importanti a cui devi pensare, quindi a produrre dei video fatti bene, che diano aiuto e valore alle persone che li intrattengano, che li tengano collegati, che riescano a costruire una community nel corso del tempo, eccetera eccetera, insomma ci sono tanti fattori molto più importanti a cui devi pensare che non siano semplicemente la scelta del nome del tuo canale. Ribadisco, ho visto tanti canali sia italiani che all'estero raggiungere ottimi numeri, quando dico ottimi numeri intendo anche delle volte miliardi di visualizzazioni quando parliamo del YouTube a livello mondiale, con dei nomi che sembrano impronunciabili, o almeno lo erano agli inizi e adesso sono entrati nella nostra testolina, ma agli inizi erano veramente difficili da ricordare. Bene, questi erano i miei pensieri e le mie opinioni riguardo la scelta del nome del canale YouTube, fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi, fammi sapere come hai fatto a scegliere il nome del tuo canale YouTube, sono curioso e come sempre ti ricordo di iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto, seguimi anche su Facebook, visita il mio sito paologrisendi.com e contattami se vuoi scoprire come migliorare la qualità dei tuoi video e la performance del tuo canale. A presto, ciao!